Salve ragazze, questa volta vi parlo e sono contenta perché non vedevo l'ora in realtà di farlo ma non avevo tempo anche se non so quando lo pubblicherò se sarà già online il blog a cui voglio collegare le mie recensioni perché questi io inizierò a farvi vedere i video, poi di ogni prodotto così anche da farvi vedere bene i colori, gli swatch e per fare una recensione un pochino più accurata intendo poi farvi il post sul blog quindi non so se aspetterò direttamente la possibilità di poter pubblicare sul sito e-commerce legato poi al blog o se comunque intanto lo pubblicherò e poi magari pubblicherò poi i post specifici comunque è finalmente un video che mi avete chiesto in tante soprattutto quando ho pubblicato la foto della mia base perché è piaciuta devo dire su instagram quindi insomma ve lo faccio volentierissimo ho aspettato un pochino un po' perché non avevo tempo un po' perché volevo finire di farvi un'idea completa sulla suo bio su questo su questa marca cioè su questo prodotto di questa marca perché poi ne sto provando altri e poi ne parleremo allora ma iniziamo subito perché insomma ci tengo allora il primo prodotto io l'ho acquistato come tutti questi prodotti vabbè questo è un omaggio si vede chiaro insomma io non sono una di quelle che toglie le etichette per far vedere che l'ha comprato me l'hanno mandato in omaggio quindi la tengo comunque tutti questi prodotti io li ho acquistati prima di decidere di aprire una bioprofumeria quindi non sono campioni non sono tranne questo non sono cose che ho ricevuto dalle aziende per decidere se mettere o meno questo prodotto è giusto specificarlo allora quindi alcuni sono particolarmente vissuti me ne rendo conto mi scuso in particolare questo sicuramente non è un bel vedere però insomma si vede che ho utilizzato il prodotto diffidate da chi dice l'ho già detto ho utilizzato il prodotto per recensirlo e poi in realtà magari non l'ho utilizzato per niente questo comunque è il fondotinta liquido quando dico liquido possiamo già aprire una parentesi di Benecos il beige allora c'era anche un altro colore che secondo me poteva starmi bene però questo devo dire che mi ha dato una grande soddisfazione questa è una base bio barra minerale c'è anche la neve si vede che comunque ragazze mi dà grandissime soddisfazioni quindi sono prodotti promossi anche se vanno saputi utilizzare questo va detto comunque vi faccio vedere lo scovolino perché particolare particolare non è tipo gloss per intenderci è un pochino è proprio tutto cilindrico cioè la parola utilizziamo cilindrico allora come vedete è molto coprente però è anche abbastanza pastoso non mi segna le rughette perché io lo utilizzo sia per le imperfezioni sia per le occhiaie quando non ho tante occhiaie se ne ho tante ne parliamo allora quando non ho tante occhiaie questo va bene non mi segna non faccio più strati perché è abbastanza coprente non lo lascio assolutamente in posa né aspetto che si fissi perché sennò non lo stendo più lo vado subito a stendere a picchiettare e devo dire che mi sta lì pacioso tutta la giornata per le imperfezioni ci metto metto questo poi sopra metto anche un fondo qualcosa per andare poi a uniformare il colorito è stato il mio salva salva vita no è brutto insomma salva vita direi di no come posso dirvi calcolate anche che questo è scaduto nel senso che sono 6-7 mesi forse che l'ho aperto comunque è stato il mio salva imperfezioni diciamo così perché mi sono venute diverse imperfezioni in un momento in cui dovevo testare un primer bio in relazione perché io ho fatto gli esperimenti come sapete su di me e su persone che truccavo questo qui di benefit quindi ho usato da una parte metallato questo metallato il primer bio di cui poi vi parlerò e il primer cioè la parte con il primer benefit è stata completamente sommersa da imperfezioni di questo poi parleremo successivamente ho messo questo nel giro di due giorni non ho messo nient'altro cioè non è che poi ho messo cose specifiche per le bolle per i brufoli non me l'ha fatto arrossare quindi potevo truccarmi tranquillamente e nel giro di due giorni è sparito tutto quindi grazie questo va detto assolutamente sono contentissima anche se ripeto attenzione perché va saputo stendere non è facile da stendere così come il fondo bene costa se vi dicevo se non ho tante occhiaie qualora io avessi tante occhiaie vado a mettere sotto questo qui e sopra anche questo poi steso con movimenti circolari con un pennello specifico questo qui che è il correttore pesca della neve vi faccio vedere il colore ma penso che questo si può utilizzare sia asciutto che bagnato e devo dire ora vi faccio vedere il risultato generale vedete che diventa un aranciato ottimo per coprire le mie occhiaie quindi sotto c'è il bene costo e sopra c'è quello calcolare il bene costo poi non è stato steso ma tanto per farvi capire guardate non se ne va cioè lì rimane favoloso non me l'aspettavo una durata così alta da un correttore low cost comunque bio e low cost come vedete io bugie non ve ne dico cioè si è tolto l'arancione e è rimasto il coso il bene costo poi ovviamente con una salviettina struccante banalissima cioè waterproof nella realtà quella per trucco waterproof va via insomma va via con facilità quindi diciamo che la combo per occhiaie da panda per me in questo momento è quella per quanto riguarda il resto della base allora io questa so bio ripeto poi tanto di ognuno vi scriverò un pochino di più sul post sul blog così vedete anche i colori di tutti i tipi quindi insomma i vari colori di queste i vari colori del fondo del correttore così avete poi un'idea chiara però due parole le devo dire su questa due parole in più rispetto a quelle che in realtà dovrei dire perché io adesso vi dovrei dire una BB cream molto molto buona perché mi sto trovando bene una coprenza eccelsa dura tutto il giorno non mi dà problemi però devo tornare un attimo indietro perché non è stato sempre così nel senso che io questa BB cream ce l'ho da diverso tempo da quando ci fu il fenomeno so bio ripeto antecedente al discorso bioprofumeria vi faccio anche lo swatch quella la 01 e per me c'è stato un amore e odio anche quando come sapete insomma dovevo aprire la bioprofumeria poi insomma ci sono i video su youtube quindi c'è poco mistero l'avevo messa tra i nì perché ho avuto il pensiero che ancora adesso non l'ho tolto cioè adesso non mi sta dando problemi però ho avuto il pensiero che mi stesse dando dei piccoli brufoli sotto pelle ora non mi ha dato più problemi non mi ha dato reazioni non mi brucia più c'era un periodo in cui pensavo mi bruciasse in realtà temo temo per quanto riguarda il fatto che delle del pizzicore sulle guance che sia un discorso relativo a una combo esplosiva e qui mi prendo le mie responsabilità tra queste è una crema da giorno di cui vi parlerò e penso che in realtà il problema forse forse è imputabile a quello forse però quindi questo io ve lo ripeto perché è giusto che voi lo sappiate ripeto non è che mi sia andata via proprio questa idea quindi è il discorso dello sfogo anche se ho anche un'altra ipotesi cioè che era la prima volta perché questa era la prima ripeto è di vecchia data il suo acquisto non prima dei sei mesi però insomma siamo pari pari che io acquistavo e utilizzavo costantemente un prodotto per la base biologico senza utilizzare una crema idratante sotto perché per me le BB cream le posso mettere anche senza crema allora questa non è una BB cream che voi potete mettere senza crema secondo me si è confuso tantissimo il concetto di BB cream e fondotinta questa non è una BB cream questo è un fondotinta è coprente è ottimo dura tutto il giorno io utilizzavo questo sempre proprio perché comunque non mi faceva rimpiangere i miei fondotinta anche costosi siliconici quindi ecco perché io mi sono data questa risposta però ripeto il punto interrogativo lo metto poi magari voi insomma i commenti sono aperti quindi me lo dite se anche a voi ho dato dei problemi assolutamente non vi fate ingannare dal nome mettete una crema o sebo equilibrante sotto se avete appunto la pelle grassa perché sennò vi scivola via mentre se avete la pelle secca calcolate che rischia di mettere in evidenza delle pellicine quindi andate a mettere una crema ben idratante sotto non è adatta assolutamente per l'estate non ci pensate neanche non vi fate sfiorare l'idea ripeto BB cream è uno degli errori più palesi che ha fatto la sua bio non è una BB cream è un fondotinta un ottimo fondotinta ma è un fondotinta non non si stende con difficoltà rispetto ad altri fondotinta biologici non si stende facilmente come se fosse ovviamente un fondotinta siliconico quindi questo va detto io come sapete il negozio farò proprio un decorsio un discorso proprio sull'imparare imparate a truccarvi bio perché non è facile assolutamente non è facile poi basta un po' di dimestichezza si impara a far tutto però attenzione quando la stendete comunque ottimo prodotto veramente che cosa faccio quando metto questa metto metto una spolverata ma spolverata veramente minima di hollywood perché questa già da sola mi dura tutto il giorno però come vedete non è completamente opaca quindi ha sempre un finish leggermente luminoso a me non piace può essere troppo opaca però una leggera passata proprio di hollywood la metto la metto qualcuno di voi mi ha chiesto la differenza tra hollywood e canna ne parliamo in un altro video perché sennò diventa un video lunghissimo che già vedo essere abbastanza importante tra l'altro comunque per chi interessa questa cipria è veramente una buona cipria non metto una cipria assolutamente tipo la Bene costa queste così perché ho la stessa della Sobio perché non mi serve io quel tipo di cipria le metto quando ho bisogno di una coprenza maggiore in questo caso non mi serve ma poi ne parliamo con calma il top per me quando ho bisogno di una coprenza maggiore è il Flat Perfection ve la butto lì poi ripeto ve ne parlo con calma comunque io del Flat Perfection ho già parlato un anno fa la scorsa estate avevo appena aperto il canale quindi magari poi vabbè vi rifaccio una recensione accurata però già c'è se vi serve l'ultimo prodotto io vi parlo bene di questi prodotti perché onestamente se vi dico la mia base trucco appurata tra virgolette low cost e bio è perché comunque mi trovo bene sicuramente da tutti i prodotti forse questo è il migliore anzi senza forse questo è il migliore è stata una sorpresa non me l'aspettavo ero indecisa quando l'ho acquistata l'ho acquistato insieme anche alla BB cream insomma quindi tutto più o meno sei mesi fa questa è avril e è il terracotta se non erro si ragazzi cioè non me l'aspettavo ero indecisa se prendere questa o il famosissimo sassi salmon ho detto ma sai che c'è dell'avril all'epoca non avevo provato nulla ho detto ma proviamo benedetto fu quel giorno perché io allora a me piace tantissimo perché dura tutto il giorno mi devo struccare cioè questa è una base che io mi strucco anche se inizio la mattina cioè se esco la mattina alle 7 ma penso che una delle cose che mi influenza tantissimo quando vado a recensire questo blush è il colore cioè il colore adatto veramente perfetto per me perfetto ragazze se siete leggermente se siete chiare ma che comunque tendete un po' l'olivastro quando vi abbronzate quindi comunque quel sottotano un po' particolare che non tutti colgono provatelo perché è favoloso e poi vi dico mi avete fatto comunque complimenti voi in foto ma anche quando lo metto ricevo tanti complimenti dal vivo poi è molto sfumabile vedete scriventissimo veramente scriventissimo poi degli altri brush avril ne parleremo ma questo è proprio guardate così è ben sfumato se invece lo vado a mettere non è polverosissimo cioè è favoloso un blush favoloso veramente niente da dire ragazze questo è una bomba non costa neanche tanto quindi fateci un pensierino se non conoscete avril e se siete soprattutto secondo me sulle more olivastra le more sta benissimo veramente benissimo detto ciò ripeto tanto di ognuno troverete poi un post approfondito come sempre se avete delle domande poi fatemele qui sotto avete la pagina facebook effetto bio bio profumeria poi il profilo effetto bio quindi insomma i modi per tenerci in contatto ne abbiamo e fatemi sapere se avete provato qualcosa soprattutto la sua bio che è tanto tanto chiacchierata che cosa ne pensate io ripeto ho avuto un rapporto un po' contrastante all'inizio con questo prodotto se l'avete acquistata ormai se la dovete acquistare è un discorso ma se l'avete acquistata non vi scoraggiate cercate di capirne il giusto utilizzo e quale è la cosa migliore per voi poi io se l'avete acquistata nei negozi fisici andate e dite oh mi insegno a utilizzarla io do per scontato che magari loro la usano e quindi sanno come applicarla detto ciò vi mando un bacione immenso ciao ragazze grazie